Ciao creatura, io sono Eccate Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di CosaE, A-S-M-A, mi sa che oggi il microfono lo tengo in mano, vi ho sto treppiedi fastidioso davanti allo schermo, buona domenica che dura, come al solito buona domenica, allora andiamo insieme a vedere i commenti dell'ultimo video e a vedere quale stagionata hai scelto, allora io sono qua con il mio fogliettino di carta, senti, con la mia penna e mettiamo uno, due e tre e metterò una crocettina sul numero, accanto al numero di stagionata così dopo contiamo chi ha vinto, allora, sono la vecchia maniera, io ho cani che abbaiano, allora la regina del bosco ha votato la numero due, due, dice particolare e il colore si abbina allo scorrimano della ringhiera, poi invece Angie Cat 306 ha votato la stagionata numero tre, con il colore con il cuirizzino e Giulio 5688 ha votato la stagionata numero tre, che era quella un po' da famiglia Adams, poi Elisa Negre ha votato la stagionata numero tre, allora che dice prontissima per svolgere il mio lavoro settimanale, la scelta, allora bellissimo, poi il piace che è la nostra nuova mascotte del canale che è riuscito a rimanere sveglio e a mettere appena in tempo a mettere like prima della pennichella e anche ha votato staccionata numero 3 poi mi piace commentare i vostri commenti 1 ha votato la staccionata numero 2 scusandosi anche ma voi avete il pieno potere decisionale non dovete scusarvi di niente poi l'ultimo commento è quello di Fravo che ha votato la terza quindi vabbè allora la numero 1 non ha votato nessuno la numero 2 ha preso 2 voti la numero 3 ha preso 5 voti quindi per forza sceglieremo la numero 3 quindi per forza sceglieremo la numero 1 no dai la numero 3 effettivamente è la più bella che anche questa era particolare la numero 1 faceva che beh rustica è la numero 1 rustica economica molto cheap e invece qua abbiamo la muretta con le lampade perché credo che queste siano lampade tipo lanterne e poi abbiamo anche il ferro quindi sofisticate praticamente più è più estetica la staccionata tra piccoli perché in realtà questa è una muretta che tutta la casa molto bene avessi avuto tanti diamanti potevo sai cosa starebbe benissimo con questo nuovo steccato mi sembra forse uno steccato è una muretta ma vabbè è del filo spinato un fossato un fossato sì perché che bello c'è una rietta che non ti dico molto frezzantina allora niente abbiamo solo due stelline cos'è qua forse la la cassetta delle lete la cassetta della posta come si chiama si chiama cassetta poi allora c'è questa qui che ci dà 15 andiamo a cambiare è sempre jazz qua invece è sempre jazz ok perfetto e qui invece la tirchiona se ne dà 10 diamanti andrei qua tanto per cambiare guardaroba guardaroba invece qui era tipo a sorpresa ok facciamo guardaroba allora sto facendo andare avanti indietro la tizia mi fa troppo ridere ok a me piace anche guardaroba era partita una pubblicità boom oh questo perizoma qua aiuto dove andiamo dove andremo a finire ma chi pensa ai bambini ma chi è che ha perso un sandaloo veramente qua come al solito non so mai l'ordine delle cose perché mi devo inventare la muciancia rossa sexy sexy voglio vedere prima che cosa ci propone quindi sto mettendo le muciance le mettiamo tutte qua ma che strana forma quella muciancia se stessa è una persona Sono molto sexy. Una sexy lady. Una sexy lady. Anche se le mutande della Roma, ecco, insomma, non lo so, non mi convincono. Poi mettiamo di qua i pantaloni, intanto. Poi si vedrà. Qua mi chiamo i pigiwami. Sono pigiwami? Ma chi lo sa? Chi lo sa? Chi lo sa? Chi lo sa? Mutante sexy. Ecco, sto venendo. Mutante sexy. Sexy mutante. 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 Sexy mutante. Sexy mutante. Allora, di quale scarpe col tacco? Di quale scarpe quelle basse, direi, no? Sexy mutante. E, 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 questo non è serio. Ok, qua ci sono delle scatole Mettiamo in alto Le abbiamo assute qua perché devo capire dove metterle Devo decidere più che capire Con la nostra precisione Indiscussa La nostra indiscussa precisione Nessuno può mettere in discussione la nostra precisione Qua per esempio ci vorrebbe un altro pigiama Qua che non è ancora uscito Sembrano pigiami Ecco qua per esempio C'era un altro reggiseno Le dobbiamo mettere qua Accidenti Allora mettiamo i calzini di qua Per una volta voglio fare le cose con un po' più di logica E precisione Ok Se ne mettiamo di qua Forse sono pigiami questi No, no Non si mette adesso Ok Sexy mojange Sexy mojange Sexy mojange Niente Non ho appena suonato 10 secondi fa Perché non risuonarle di nuovo Giustamente Giusto Verro 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 Non so di cosa stessi parlando prima Ah ma scusami Scusami Eh ma infatti Ciao Eh Allora Sì Vedi Vedi qua Stiamo diventando sempre più schillati Se faccio dei discorsi e poi mi interrompo e non ne parlo più Oltre ad essere un po' schillerata io E' che Mi esce la pubblicità e durano infinite minuti Infiniti minuti E quindi Qua secondo te c'era un ordine Io avrei messo tutte di là Qua quelle basse e là quelle alte Ma non c'era un ordine in realtà Ho l'ultima mujange Il pigiama E adesso bisogna decidere qui cosa mettiamo Così E così Ah Accidenti Aspetta Guarda Ta 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 È appena uscita una pubblicità con questo music Eh Cioè Voglio dire Che bello Guarda com'è estetico Com'è Parti qua Però vabbè Ho messo quei pantaloni in viola che non c'entrano niente Quelli lì lì Scarta La carta Scarta La carta Scarta Ma cosa me ne faccio? Ma questo lo butto proprio Ma dai E poi non ci sono pioggetti di Halloween Già Ho guardato la pubblicità per Scarta La carta Scarta La carta Niente È stata una delusione Chiederò l'altra Vabbè Vabbè Speravo di vincere qualcosa di meglio Ma A quanto pare non c'è qualcosa di meglio Dunque Dove stai andando Jess? Dove vai? Dobbiamo prendere questa Ok Ah però Allora c'è questa C'è questa C'è questa Doppia E c'è questa Beh Neanche a chiederlo Metto questa E basta E tante storie E tante storie Ma siamo quella Eh La nuova cassetta delle lettere non è male Ma mi mancherà la vista Quale vista? Quella del fondo schiena del postino Ogni volta che si appassava per mettere la posta nella vecchia cassetta delle lettere Jess Ma cosa state dicendo? Scostumata L'altra vabbè Ma effettivamente era tanto grossa E preferisco spendere Investire i miei diamanti in cose migliori Yeah Temiamo la roba Andranno qui Andranno qui Proviamo Beh sicuramente Maffine Maffine rotolanti Maffine rotolanti Maffine rotolanti Li mettiamo qua Che voglia che fanno sti muffin Comunque Senti che bella rietta In teoria oggi non dovrebbe piovere Però io non mi fido più del meteo Perché Ci mettono piogge Poi non piove Poi non mettono piogge Piove Quindi E non mi fido più Ma forse forse Ah vedi Non lo sai Li fa mettere Dove non si deve mettere A parte qua Allora questi Li mettiamo qua Metterei Quelli alla fragola A un lato E quelli alla Vaniglia O al cioccolto bianco O al cioccolto bianco Cioè Vaniglia e fragola Però Oh 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 no Sono Sono Dispari Vabbè Ci penseremo dopo Ok Quindi Non si capisce qua come andavano Sono di più quelli Che questi qua Non so Lo stavo dicendo prima Che mi prendessi un colpo Però Sono di più quelli bianchi Non si sa Vabbè Vado così Si dai Ci sta dai Carino anche Estetico E qui abbiamo i maffini Gli altri maffini Forse Al cioccolato Con gocce di cioccolato Buonissimi Una volta andavano molto più di modo i maffini Adesso non li fa più nessuno E qua ci sono quelli normali Però con le gocce di cioccolato A me piacciono i maffini Le zucchine Che mangio in un In una Si chiama spazio E Praticamente hanno al bar E poi Lì a fianco Hanno anche Un negozio dove vendono Tipo i panettoni Le cose dolciarie Perché Si chiama borsari E ti fanno anche l'aperitivo E ti fanno sti mini muffin Che te li regalano Con lo spritz Con l'aperitivo E sono le zucchine Ma sono buonissime Io vorrei troppo la ricetta Insomma Non si trovano così Non si trovano così buoni Allora Scarta Scarta La carta La carta Scarta Scarta La carta Scarta Beh dai la tegliera ci sta Perché Ci sta dai La potrei anche usare Allora Ci servono Ok Non sto ridendo Perché ho appena raccontato Finché guardavo la pubblicità Che c'erano 20 minuti di pubblicità Ho raccontato a un mio amico Su whatsapp Che praticamente C'era un tipo Che Con cui avevo fatto amicizia Ma poi L'improvviso Ha deciso Così di punto in bianco Di gustarmi Cioè così da niente E Tipo Ha fatto tutto da solo Insomma E io tipo Tutto a posto Non so E allora Adesso Siccome Ti costano Però Però ti scrivono Cioè Ti mettono i like Su TikTok Il senso Non si è capito Ehm Allora Adesso Gli sto mandando tutti i TikTok Dove ci sono Jumps Jumps Jumpscare Così lo faccio un po' cagare sotto Di paura Così imparano Almeno la mia piccola vendetta Lo so che non Cioè Non cambia niente a nessuno Però intanto Lui Si è un po' cagato sotto Perché Ha visto quello Mi ha scritto tipo Che si era Che aveva preso paura E io ero tipo Ti sta bene Stronza Ti sta bene E quindi Cioè Almeno se devi gustarmi Cioè Perché ti ho fatto qualcosa Non credo Sono stata subdola Perché praticamente Mmm Mi aveva chiesto Il giorno del mio compleanno Di vederci Perché voleva farmi gli auguri E poi dopo quando Mi sono tienti libera Alle ore tot Poi quando è stato il momento Gli ho scritto Ciao stai arrivando Dove sei eh Sparito Da lì non mi ha più risposto Cioè Boh mi dici di tenermi libero Il giorno del mio compleanno Che io potevo farmi Fare quello che volevo Questo è successo anni fa E E poi mi costi E non mi rispondi più Cioè Ma tutto a posto Boh E quindi Adesso poi È stato Nel nulla cosmico Per Tutto da anni Adesso eri Spucato fuori su tiktok Che lui neanche ce l'aveva Mi ha trovato E mi mette like ai video Tutto a posto Allora la mia vendetta È stata quella Scusa C'è rumore fuori Aspetta che chiudo la finestra Quindi la mia vendetta appunto È stata È stata questa Che ogni tanto gli mando Si trovate dei video Che fanno cagare sotto La paura Mandatemi su tiktok Perché poi Gli leggerò lui Così si fa gli infardini E poi gli mandavo tutti Tutti i video Anche con Persone che parlavano Del ghosting Di cose del jelly Ma lui Non ha neanche capito Cioè Era lui la vittima Capisci E quindi niente Adesso si merita Di prendere paura Nei video di tiktok Manderò solo quelli Scarta La carta Scarta La carta Scarta Non so cosa sia Ma mi piace Perché ho formaticato Finalmente La ruota sta girando Per noi Finalmente Finalmente È un premio carino Ok Ok Adesso Andiamo a scegliere la panchina Ok Vediamo Ebbè 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 Diciamo Diciamo Che ho risparmiato Sul portalettere E non ho risparmiato Sulla sedia Giustamente Qui è dove però Il mio caffetto Tutte le mattine E allora Mi ha fatto bene A scegliere quello Spaventerei tutti i vicini Con l'aspetto che è di mattina Ehi Non si dicono queste cose Infatti Che mi hanno educato Io la mando fuori di casa Occhio che questo Lo scegli tu Non so cosa sarà Ma Andiamo a conquistare Le nostre stelline Oh Bello Anche questa Sarà due a due Sì Eh però Non sappiamo Se c'è rosso Aspetta È sbagliato Sì Perché se c'è rosso Lo mettiamo Qua Allora aspetta Non sarebbe così No Ma tranquilla Non faccio più Quell'ordine dei colori No no Scatoline Non so quanti ce ne saranno Ecco Ecco Che c'è rosso Lo sapevo io Guarda Me lo sentivo dentro Che c'era rosso Per lì Guarda Lo sentivo S говорил Lo sentivo Eh bella questo scatolino sai che forse andavano 4 a 4 annazio a me accidenti, aspetta non ti dà cenni comunque, non si sa se stai facendo bene ho finalmente un geno di pitta un geno di pitta non ci sta tanto bene facciamo così ecco così è bello ecco fatto, non mi sembra così soddisfatto però noi c'è di interesse solo le nostre tre stelline e tanti cari saluti scarta la carta, scarta la carta, scarta la carta, scarta oh finalmente, vedi da gattara mi piace questa tazza comunque non ci ha tolto la roba di Halloween come possibile vabbè e niente, ci manca una stellina come sesso e samba, sesso e samba comunque ho chiuso la finestra e si sente lo stesso casino fuori cioè come è possibile come si fa che un po' si fa di quale pennare che tirano le matite questo è l'ordine? mi si è pianta sempre questa canzone ovviamente perché è ripetitiva ok è un bel ordine di coloro che vogliamo sempre lo stesso ok il mio flippo tutto in rapida rapidamente allora non so che questi vanno così ma si beh sembra concordare con me molto bene molto bene ok così questi qua forse sono anche quelli a 2 a 2 non si sa molto bene molto bene e perché durano troppo? troppo 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 però vabbè immagino che qua qua che ho messo sopra nonostante sono questi non lo so vabbè intanto dobbiamo mettere questi qua i vasettini aspetta allora questo è un po' male allora questi io devo fare qua così ma è rimasto un rosso lì? non è confuso aspetta no via così 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 ok allora sì adesso adesso ho senso ok molto bene molto bene dai 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 quella stellina ce la siamo guadagnata yeah scarta la carta scarta la carta scarta la carta non ci credo ma questa è la nostra giornata fortunata tra l'altro l'avevo visto il flipper e lo volevo e adesso ce l'abbiamo cioè l'ho visto qui adesso mamma mia esprimi subito un desiderio creatura oggi è la nostra giornata ok va bene Jess non ci interessa che stai facendo una doccia andiamo a scegliere questa la panchina non è la panchina infatti ho detto oddio adesso mi è venuto un dubbio non è che la panchina dopo la scelta cioè la quale è l'altra l'altra che abbiamo scelto no è una fontanella è l'indecisione qua tra l'altro da notare che abbiamo tutti i diamanti possibili per acquistare allora c'è questo specie di laghetto qui che sembra che abbia un vortice tipo lo so oddio poi c'è questa mamma mia ma no sono cioè cosa c'è vinto perché fa così rapida l'acqua vabbè oppure c'è no con l'uomo col pepo di fuori no ti prego no vabbè scegli tu ovviamente però non voglio influenzarti però l'uomo col pepo di fuori no però scegli tu perché sono orribili in tutte e tre quindi devi scegliere tu per forza perché io non so quale scegliere non saprei proprio mi fermerai qui chiudere il gioco e non lo riaprirei mai più no scherzo 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 e forse scegliere la più basic non lo so comunque è necessario avere questa mega fontana in giardino secondo me no però vabbè siamo diventati megalomani quindi crentura scegli la numero uno sì sì scegli questa scegli questa la numero due no 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 scegli questa o la numero o la numero tre no 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 scegli questa riproviamo ti faccio rivedere scegli la uno sì 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 scegli questa scegli la due no 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 o scegli la tre no 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 ma io ovviamente non ti voglio influenzare quindi non ti dirò quale quale sceglierei capito non ti dico quale sceglierei però scegli tu ovviamente sei libero anche di scegliere la tre la due quello che ti pare e come sempre ti auguro ti ringrazio come sempre ti ringrazio di essere stata qui in compagnia con me questa sera o questo pomeriggio dipende sai quando lo vedrai ti auguro una buona penichella domenicale oppure anche una buona notte se lo stai guardando di domenica notte grazie per continuare a sostenermi sempre sei proprio parte delle creature quelle fedelissime no ok perfetto buonanotte buon relax ciao creatura grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti